Ciao da Lucia! Oggi, grazie alla richiesta della mia amica Maria, vorrei farvi vedere in lineare il punto del mio poncio sportivo, perché mi è stato proprio chiesto di fare vedere come si fa in linea, in quanto io l'ho lavorato in circolare e molte di voi volevano farci delle stole e quindi serve comunque la lavorazione in linea. Oggi vi faccio vedere appunto come si fa. Allora, io ho montato un multiplo di 9 più 8 catenelle e voi vi chiederete cavolo, 9 più 8 è un rapporto un po' strano. Sì, è strano, questo punto ha un rapporto un po' strano, però ho constatato che lavorato in lineare questa è la proporzione giusta per avere un bel lavoro. Ora procedo subito col farvi vedere come fare il punto. Io ovviamente ho fatto un giro di maglie alte per semplificare la mia spiegazione, ma voi assolutamente potete partire direttamente dalle catenelle. Procediamo quindi a vedere come si realizza questo bellissimo punto. Allora, partiamo con 3 catenelle, voltiamo e nella seconda maglia alta sottostante andiamo a fare la nostra seconda maglia alta, visto che la prima l'abbiamo sostituita con le catenelle. Catenella, saltiamo 2 maglie alte sottostanti, sulla terza andiamo a fare 1 maglia alta, 3 catenelle e nello stesso punto un'altra maglia alta, creando così un punto V. Una catenella, saltiamo 2 maglie alte sottostanti e sulla terza facciamo una maglia alta. In quella successiva facciamo un'altra maglia alta, su quella dopo un'altra maglia alta. Abbiamo creato un blocco da 3 sulle 3 maglie alte sottostanti. Una catenella, saltiamo sempre 2 maglie alte sottostanti e andiamo a fare un altro punto V, quindi una maglia alta, 3 catenelle e di nuovo una maglia alta. Una catenella, saltiamo 2 maglie alte sottostanti e nelle ultime due andiamo a chiudere come abbiamo iniziato, quindi una maglia alta e sulle 3 catenelle d'inizio, quindi andiamo a fare la nostra seconda maglia alta. Quindi ricapitoliamo, abbiamo fatto 2 maglie alte, catenella, un punto V creato da maglia alta, 3 catenelle e maglia alta, un'altra catenella, 3 maglie alte sulle 3 maglie alte sottostanti, una catenella, un altro punto V, quindi maglia alta, 3 catenelle e maglia alta, saltiamo 2 maglie alte sottostanti, facciamo la catenella ovviamente e andiamo a fare sulle ultime 2 maglie alte, 2 maglie alte, quindi apriamo con 2 e chiudiamo con 2. Procediamo con quello che sarà il nostro secondo giro, non contiamo il mio giro di maglia alta perché ovviamente io l'ho fatto per semplificare la spiegazione ma a voi non importa questo giro, i giri che vi interessano sono quello che abbiamo appena visto e il prossimo, perché comunque questo punto è creato da una successione di 2 giri. Procediamo in questo modo, quindi andiamo a fare 3 catenelle, voltiamo il lavoro e andiamo a farne un'altra, quindi noi abbiamo fatto una maglia alta con le 3 catenelle e una catenella aggiuntiva, che è quella che va a separare i blocchi di punti. Sul punto V andremo a fare 7 maglie alte, quindi 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7. Abbiamo creato il nostro primo ventaglietto. Una catenella, al centro del blocco del blocco da 3, quindi sulla maglia centrale del blocco da 3, andremo a fare una maglia alta, una catenella e di nuovo saltiamo direttamente senza nient'altro che quella catenella a fare 7 maglie quindi nel punto V seguente. Quindi 2, 3, 4, 5, 6, e 7. di nuovo una catenella e andiamo a fare una maglia alta sull'ultima maglia alta. Ecco qui, 1. e abbiamo finito il nostro secondo giro, quindi maglia alta, catenella, 7 maglie alte sul punto V, catenella, maglia alta al centro del blocco da 3 maglie alte, catenella, 7 maglie alte sul punto V, catenella e l'ultima maglia alta la facciamo nell'ultima maglia alta, quindi saltando la penultima direttamente sull'ultima. Andiamo al terzo giro. Il terzo giro lo faremo in questo modo, quindi maglia alta creata dalle nostre 3 catenelle, quindi voltiamo il lavoro, 2 catenelle e nella stessa, quindi sulla stessa maglia alta dove abbiamo fatto le 3 catenelle, creiamo un'altra maglia alta, quindi faremo un punto V ma leggermente più piccolo. Una catenella ed ora dobbiamo andare a creare il blocco da 3 sopra il nostro ventaglietto che è da 7, quindi saltiamo le prime 2 maglie alte del ventaglietto e sulle 3 centrali, scusate, sulle 3 centrali facciamo una, due, quindi in quella successiva la seconda e in quella dopo la terza, in questo modo. Quindi andiamo a creare al centro del nostro ventaglietto, sulle 3 centrali, 3 maglie alte, una catenella, sulla nostra maglia singola andiamo a creare il punto V, quindi una maglia alta, 3 catenelle ed una maglia alta, di nuovo una catenella e di nuovo saltiamo le prime 2 maglie del ventaglietto, sulla terza facciamo una maglia alta, sulla quarta una maglia alta e sulla quinta l'ultima maglia alta del blocco da 3. Una catenella e di nuovo andiamo sull'ultima maglia alta, contate bene perché c'è la catenella di separazione qua, quindi saltate la prima, contate 3 catenelle, quindi sulla terza andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle e di nuovo sulla stessa una maglia alta e così abbiamo finito il terzo giro, vedete? Lo ricapitolo sempre, maglia alta sulla primissima maglia alta composta da 3 catenelle, 2 catenelle di separazione e un'altra maglia alta sempre sulla primissima maglia alta, catenella di separazione una e al centro del ventaglietto andiamo a fare il nostro blocco da 3, quindi sulla terza, sulla quarta e sulla quinta del ventaglietto facciamo le nostre 3 maglie alte, catenella di separazione, sulla maglia alta singola sottostante andiamo a creare il nostro punto V, maglia alta, 3 catenelle, maglia alta, di nuovo catenella di separazione e di nuovo al centro del ventaglietto quindi facciamo le nostre 3 maglie alte, catenella di separazione e chiudiamo come abbiamo aperto, quindi nell'ultima maglia alta sottostante andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, quindi procediamo con il quarto giro. Allora il quarto giro lo iniziamo così, 3 catenelle, voltiamo il lavoro e queste 3 catenelle varranno come la nostra prima maglia alta, carichiamo e andiamo a fare altre 3 maglie alte all'interno del nostro punto V per un totale di 4 maglie alte, in questo modo. Catenella, andiamo su quella centrale del blocco da 3 e facciamo una maglia alta catenella, di nuovo all'interno, in questo caso vedete cambia il giro, all'interno quindi del nostro punto V andiamo, no non cambia lo stesso, semplicemente noi all'inizio l'abbiamo fatto, abbiamo fatto solo 4 maglie alte del ventaglio invece qua ne andiamo a fare 7, scusate ogni tanto due numeri, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, catenella, di nuovo una maglia alta sulla maglia centrale del blocco da 3 catenella e quindi nell'ultimo punto V andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e la quarta la facciamo nella terza catenella d'inizio, in questo modo, così. Ora andiamo a fare quello che sarà il nostro ultimo giro perché va a ripetere il primissimo giro, quindi mi correggo, allora nel circolare, nel lavoro circolare, questo punto si sviluppa su due giri, qui si sviluppa su quattro perché abbiamo anche i laterali e adesso vi faccio vedere subito come andremo a fare il quarto ed ultimo giro. allora andiamo a fare le nostre 3 catenelle che è la nostra prima maglia alta, ovviamente voltiamo il lavoro e sulla seconda maglia alta sottostante andiamo a fare la seconda maglia alta, vedete abbiamo riprodotto infatti il primo le prime due maglie alte, dopodiché una catenella e sulla maglia singola qui andremo a fare il nostro punto V quindi maglia alta, 3 catenelle e di nuovo maglia alta sempre sullo stesso punto di nuovo andiamo a fare la la catenella, scusate mi è scivolato il gomitolo e sulle tre centrali del ventaglietto quindi saltiamo le prime due sulla terza facciamo una maglia alta, sulla seconda facciamo una maglia alta e sulla terza facciamo una maglia alta, vedete esattamente come il primo giro siamo come il primo giro, una catenella di nuovo punto V sopra la maglia alta singola sottostante quindi una maglia alta, 3 catenelle e di nuovo una maglia alta, catenella di separazione andiamo nelle ultime due maglie del mezzo ventaglietto iniziale o comunque in questo caso finale e facciamo le ultime due maglie alte quindi una sulla penultima e una sull'ultima così praticamente noi proseguiamo quindi adesso cosa andremo a fare di nuovo il secondo giro quindi una sola maglia alta su queste, il ventaglietto da 7 qui, una maglia alta su questa, il ventaglietto da 7 e di nuovo una maglia alta come vedete questi quattro giri compongono il nostro bellissimo motivo, è molto semplice, è molto d'effetto e ci potete fare veramente di tutto con questo motivo, dalle stole alle sciarpe appunto io ci ho fatto, ve lo faccio vedere di nuovo, ve lo faccio vedere però sotto sopra perché ovviamente lavorato top down, vediamo se riesco a scurire un attimino perché se no non vedete niente vedete l'effetto è il medesimo, ho usato un filato diverso ma vedete adesso posso schiarire di nuovo qua è a seconda del filato che uso devo schiarire o scurire vedete l'effetto è questo, è molto bello quindi si compone, mi correggo di nuovo, di quattro giri quindi il primo, il secondo, il terzo e il quarto che in realtà il quarto è esattamente come il primo, sono quattro solo perché uno, due, tre, quattro, no sono questi perché io ve ne ho fatto uno in più, il quinto ma oggi do i numeri scusatemi, il quinto è la ripetizione del primo quindi comunque sono quattro i giri, uno, due, tre e quattro, questo quindi sono quattro giri, dopodiché dovrete sempre ripetere il primo, il secondo, il terzo e il quarto in successione, quindi è molto bello, molto d'effetto il multiplo è stato un problema a trovarlo, infatti all'inizio avevo sbagliato e comunque vi do un piccolo trucchetto quando non sapete il multiplo di un punto voi andate a montare qualche catenella in più dopodiché quando siete arrivati alla dimensione che vi piace del disegno e alla dimensione, quindi alla misura giusta del vostro lavoro potete tranquillamente disfare le catenelle successive io ora vi ripeto il multiplo, io qua ho montato due, quattro, sei, otto, dieci, dodici, quattordici, sedici diciassette catenelle, ma in pratica il multiplo è di due, quattro, sei, otto e aspettate, otto e nove, quindi è un multiplo di nove più quattro le quattro servono per fare questi due per saltare queste due maglie e fare queste due maglie alti all'inizio e alla fine se no il punto vi finirebbe comunque in modo sbagliato nel senso che vi finirebbe con un vuoto qua e un vuoto qua e sarebbe veramente bruttissimo da vedere quindi il punto direi che così è veramente molto bello io spero di essere stata chiara mi sono un po' su questo punto che a me piace tantissimo mi sono un po' impaperata qua e là però io spero di essere stata alla fine chiara e spero che vi sia piaciuto questo tutorial spero che ci vedremo in altri tutorial io vi saluto e salutandovi vi ricordo sempre il mio gruppo facebook Creando con Luce Franci un bacione e saluto la mia amica Maria che mi ha chiesto questo bellissimo punto di nuovo un bacione e al prossimo tutorial ciao da Lucia